L'Italia dei Valori ritiene necessario scendere in piazza al più presto prima che la disperazione porti a gesti inconsulti lesionistici o autolesionistici, persone disperate che non arrivano a fine mese, manifestazioni civili di protesta affinché ci sia un ripensamento operoso, obbligato da parte del Parlamento sui decreti che il governo Monti sta ponendo in essere ed in ultima analisi affinché si vada al più presto alle elezioni e si riconsegni il Paese nelle mani di un governo politico che venga scelto dai cittadini sulla base di un programma di governo che rispetta le fasce sociali più deboli, soprattutto quelle più oneste che vengono sempre sacrificate anche e soprattutto dal sobrio Monti.